Ciao tifosi napoletani, David Neres ha appena riscritto la storia della Serie A con un nuovo record. Il Napoli ha dominato in trasferta contro il Cagliari, e Neres, tornato in campo dalla panchina, ha lasciato il segno ancora una volta. Dopo aver brillato contro Parma e Bologna, anche contro il Cagliari il talentuoso brasiliano ha fatto la differenza. Con un assist preciso per Buongiorno, che ha contribuito al punteggio finale di 4-0, ha aumentato il suo totale a tre assist nelle prime tre partite. Una performance straordinaria, che ora mette Antonio Conte davanti a una scelta difficile, il posto di Politano potrebbe non essere più garantito. Secondo i dati della Opta, David Neres è il primo giocatore a fornire un assist in ciascuna delle prime tre partite di Serie A dal 2000-2005. Un traguardo che aggiunge ulteriore valore alla sua presenza in campo. In altre notizie, secondo la Repubblica, Antonio Conte starebbe già pensando a una modifica tattica per il prossimo incontro contro la Juventus, che si terrà sabato a Torino. Sarà la seconda partita consecutiva in trasferta per gli Azzurri, imposta dal calendario. A Castel Volturno, Conte starebbe lavorando su un cambio di modulo, passando dal 3-4-2-1 al 4-3-2-1. Questo possibile cambiamento tattico sarebbe legato anche alle nuove acquisizioni di Gilmour e MC Tominai, che si sono presentati in ottime condizioni e pronti a offrire nuove soluzioni. Anguissa ha avuto un inizio instabile, con una performance al di sotto delle aspettative a Verona e prestazioni miste contro Bologna e Parma. Tuttavia, secondo Alfredo Pedullà, il gol che il centrocampista camerunese ha segnato ha restituito la sua fiducia, e in Sardegna ha mostrato una prestazione che ha ricordato l'anguissa del Scudetto. Se continuerà a giocare a questi livelli, sarà difficile per Gilmour e MC Tominai togliere il suo posto da titolare.